benvenuti al progetto spf e c e a queste sigle vogliono dire salviamo il pianeta formazione educazione consapevolezza arte ed eleganza ecco questo progetto vestire sostenibile perché insieme uniti possiamo creare piccole e grande cose a favore del nostro pianeta terra a favore delle generazioni future in qualità di presidente dell'associazione aps formazione mondo terra con tanto amore porto avanti questo progetto nel quale credo fin da piccolina e sono benvenuti tutti coloro che creano sinergia lungimirante con grande passione e intelligenza perché abbiamo capito che insieme con questi valori con questa voglia di fare possiamo costruire tutti insieme un mondo migliore e do un ringraziamento a tutti coloro che credono che credono in questo progetto che credono in jasmine rodriguez e nelle attività che sta portando avanti la associazione formazione mondo terra e con tutto il mio cuore ringrazio ringrazio alle persone che si stanno impegnando impegnando veramente con tutto il loro cuore con la professionalità serietà responsabilità e io ne sono molto grata e non posso altro che ringraziare a tutti voi dal mio caro amico vincenzo da tutti questo grande numero di più di cento persone che stanno lavorando in questo progetto che è iniziato all'inizio di questo anno e quindi questo è quanto cari amici per mondo terra jasmine rodriguez e già che siamo qui che si respira l'atmosfera natalissima vi auguriamo un bellissimo e meraviglioso natale è un meraviglioso 2024 all'insegna della salute l'amore e la felicità un forte abbraccio